buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo che inevitabilmente dedichiamo alla vicenda di alfi evans dando prima di tutto la buona notizia sono 60 ore che alfi respira autonomamente e questo ha sconvolto i piani del mondo diciamolo così e oggi ci dà una grande occasione questa resistenza di alfi per fare un ragionamento sul meccanismo quello io chiamo l'ingranaggio che sta stritolando alfi la sua famiglia ma che in tutta evidenza è costruito e oliato per stritolare il fragile nel momento in cui manifesta la sua fragilità oggi vi darò conto di una intervista fatta dal presidente del comitato di bioetica italiano il neo presidente che nessuno conosce è stato nominato il 28 marzo scorso si chiama lorenzo davac e ovviamente su repubblica da la sua intervista l'intervista in cui definisce un caso grottesco quello di alfi evans attaccando a tutto spiano la famiglia e i movimenti pro life il dato che mi colpisce in tutta evidenza è come repubblica faccia campagna sostanzialmente continuamente a favore dell'ingranaggio perché noi di quello stiamo trattando dell'ingranaggio intanto giovanni marco luglio ci scrive da dall'alderei il grande giovanni ieri ha fatto un intervento eccezionale in diretta a matrix asfaltando altri cantori come lorenzo davac che sono pierluigio di freddi alessandro cecchi paone che senza sapere concretamente di cosa stanno parlando pontificano giovanni è lì ed è una cosa diversa no essere lì che giudicare da un freddo studio televisivo le ultime informazioni che giovanni ci sta facendo arrivare da da liverpool anche attraverso le sue dirette attraverso aleteia consiglio tutti di seguire giovanni marco tuglio su aleteia italia gli ultimi aggiornamenti ci parlano di un'imponente operazione io vi cito proprio da dall'articolo di di giovanni marco tuglio che ora il tentativo è quello di isolare la famiglia di di alfi l'intenzione è questa isolare la la famiglia giovanni vi sottolinea alcune informazioni in cui spiega con precisione il ruolo anche dell'arcivesco di canterbury monsignor mac maon volato a roma per partecipare all'udienza papale nonché per un giro a santa marta il frutto di questa visita è stato il rinvigorirsi della narrazione eutanasica della vicenda evans a roma nonché il corrispettivo indebolimento delle protezioni di padre gabriele padre gabriele il sacerdote italiano che sta curando anche spiritualmente la famiglia evans quasi a modi firma l'arcivesco di canterbury ha fatto uscire ieri un pezzo su the tablet in cui si leggono queste testuali parole del prelato sono grato per le cure mediche spirituali che alfi sta ricevendo so che stanno facendo tutto quanto è umanamente possibile la nostra preghiera in questo difficile momento e che il signore dia a ciascuno la forza spirituale per affrontare il futuro immediato dunque è chiaro che c'è un'operazione anche per indebolire il ruolo di chi si sta sacrificando e chi sta svolgendo il suo diciamo di ruolo anche spirituale avete capito il volare in tutta fretta a roma avete capito che l'ingranaggio è molto complesso e comprende anche spezzoni della chiesa insomma diciamolo chiaro così lo evidenziamo rispetto alle parole che appunto sono contenute nell'ultimo articolo di giovanni marco tuglio da liverpool quello che voglio spiegare oggi appunto è l'ingranaggio ciò che sta conducendo drammaticamente la vicenda di alfi evans che è la grande occasione che noi abbiamo che alfi ci sta regalando la resistenza di questo bambino ci sta dando la grande occasione di guardare l'ingranaggio nella sua complessità e nella sua crudeltà oggi vi leggerò l'intervista del professor davac presidente del comitato di bioetica a repubblica ve la leggerò perché vi faccio capire così come l'ingranaggio vuole essere introdotto anche nella cultura italiana non è un ingranaggio inglese state attenti è una cultura che si fa legge che usa come rotelline dell'ingranaggio cantanti operatori del mondo della cultura politici magistrati medici capite il complesso sacerdoti vescovi spezzoni della regione cristiana e purtroppo anche della chiesa cattolica e questo colossale ingranaggio ha delle ragioni che vengono definite con il potere e il denaro nella sintesi che possiamo fare noi cattolici sono i servitori di mammona sono i servitori di mammona le 60 ore di respiro di alfi evans sono l'elemento che può dare a noi inconsapevoli l'occasione di guardare dentro l'ingranaggio e oggi lo faremo con tutta l'attenzione padre gabriele questo sacerdote coraggioso che che doveva e poteva dare un supporto anche spirituale un legionario di cristo a cui era stata procurata anche un'importante copertura diplomatica è stato richiamato guarda caso dal suo parroco a londra queste sono informazioni che ci dà giovanni marco tullio in diretta da liverpool informazioni che non arrivano tramite altre fonti bisogna stare là per capire questo è il lavoro che sta facendo il nostro giovanni marco tullio che sta riversando su aleteia e fa capire come sta funzionando l'ingranaggio come sta funzionando l'ingranaggio il diego schirò in questo momento mi chiede di sostenere i candidati del popolo della famiglia in friuli venezia giulia ovviamente domenica si vota li sostengo con tutto il cuore dal franco lincetto a tutti gli altri amici a latina baldacci a tutti gli altri amici ma in questo momento io vi sottolineerei la possibilità di usare anche la diretta per farvi leggere cari amici ma capite l'importanza di questo momento e fate sì che il popolo della famiglia anche impegnato in questi giorni ultimi tre giorni di campagna elettorale in friuli venezia giulia sappia comprendere che il suo ruolo nella dinamica anche politica e culturale di questo paese è spiegare l'ingranaggio questa è la maudizzazione per cui facciamo tutto quello che abbiamo fatto è anche l'impegno politico come popolo della famiglia quindi volete usare ovviamente la diretta per far sapere noi lo vogliamo far sapere che si può votare per i nostri esponenti nelle regionali del friuli venezia giulia ma oggi cerchiamo di stare concentrati su questo elemento perché se comprendete alcuni elementi da questa diretta forse poi possono essere utilizzati per la riflessione complessiva e collettiva ragioniamo bene su quello che sta accadendo perché lo ripeto alfi ci sta dando la grande occasione la grandissima occasione di guardare negli occhi un ingranaggio crudele e disumano uso le espressioni del coraggioso presidente dell'istituto superiore di sanità dottor ricciardi espressioni che hanno scandalizzato l'inghilterra se andare sul sito dell'express di express.co.uk uno dei principali giornali britannici troverete le espressioni del dottor ricciardi ripeto presidente dell'istituto sanità superiore di sanità che dice con nettezza che l'ingranaggio è disumano è disumano ragiona con dei meccanismi che sono assolutamente disumani per ottenere cosa è lo stesso ricciardi a fornirci le cifre ma basta studiare le dinamiche anche sindacali per certi versi del nhs national health service britannico per capire cosa si ottiene attivando l'ingranaggio che stritola la fragilità umana 17 miliardi di sterline questo ingranaggio vale il definanziamento dell nhs national health service il nostro servizio sanitario nazionale per 17 miliardi di sterline noi vogliamo avere chiari questi elementi perché altrimenti come tutti noi no quando stiamo ragionando su questi argomenti ci viene da dire ma perché ma perché ma perché avvengono queste cose perché non lasciano andare alfici diciamo tutti increduli perché l'ingranaggio vale 17 miliardi di sterline lasciamo stare tutti gli aspetti che ho letto ovviamente sul traffico di organi quelli sono gli scoop giornalistici che ci fanno avvampare e ci fanno pensare che lo vogliano fare a pezzi come è già successo in altri casi però quella è cucina del gossip giornalistico stiamo a leggere l'ingranaggio di per sé di per sé cerchiamo di comprendere non la vicenda di alfi per stare dentro la vicenda che emotivamente ci tocca e partecipare con lo stomaco e col cuore proviamo adesso a partecipare con la testa cerchiamo di capire perché e sapete perché è importante capire perché è perché se capiamo il perché evitiamo di importare l'ingranaggio in Italia perché è quello che stanno tentando di fare ancora la domanda chi i centri di dominio mondiale che per sintetizzare definisco massonici ma che sono sostanzialmente sostanzialmente cricche neomaltusiane che governano l'andamento di alcuni elementi decisivi della nostra vita quotidiana la spesa pubblica tanto per essere chiari su alcuni elementi a queste persone hanno la necessità di prosciugare i denari che vengono dedicati alla fragilità è molto più grande il disegno lo dobbiamo cogliere nella sua complessità perché perché è necessario a questo punto avviare quella che io riferisco una guerra contro la possibilità che questa cultura invada l'Italia quando ieri avete visto il nostro Giovanni Marco Tullio scusate se lo cito sempre ma sta svolgendo un lavoro eroico battagliare in televisione con Odifreddi e Cecchi Paone avete visto due cose primo la resistenza di Alfi questo cigno nero questo evento totalmente inaspettato il bambino estubato che doveva morire in 15 minuti resiste 60 ore la resistenza di Alfi conduce immediatamente la sua vicenda nel mainstream della comunicazione e questa ci dà una grandissima occasione perché dunque si parla finalmente per carità a luna e un quarto di notte è vero che dopo mezzanotte e mezza anche porta a porta ha fatto un servizio e un dibattito in studio sulla vicenda di Alfi ma comunque è una grande occasione la grande occasione di far entrare il tema nel mainstream cioè nella dieta mediatica quotidiana oggi molti sanno conoscono la vicenda di Alfi che fino a qualche settimana fa era patrimonio di pochissime testate cattoliche che seguivano questo questo accadimento e questo è il primo grande risultato il secondo grande risultato è che noi diventiamo interlocutori Marco Tuglio interloquisce con Cecchi Paone e con Odifreddi e può svolgere lavoro di controinformazione con la nobiltà e l'autorevolezza che gli deriva da stare in loco cioè da stare a fare l'inviato a Liverpool mentre Cecchi Paone parla con quel tono sprezzante non vado a fare la portineria di cose che non sa cita a un certo punto di quel dialogo il buon Cecchi Paone il professor Dalla Piccola provando a trasformare Dalla Piccola che è il direttore del Bambin Gesù in un sostenitore dell'uccisione di Alfi cosa folle perché se c'è uno e sta lanciando l'allarme sul caso Alfi è Dalla Piccola che è impegnato da mesi e che conosce il caso da mesi insieme a Mariella Enoch che ieri è stata intervistata dal Corriere della Sera anche qui per stare dentro alla filiera di un mainstream a cui Alfi con la sua resistenza ci ha dato accesso allora vi prego non solo cuore non solo pancia accendiamo la testa e cerchiamo di capire quello che sta accadendo perché come dice Alex Zino c'è l'arroganza e la superbia dei giudici che poi la stessa di Cecchi Paone che poi la stessa di Odifreddi che dice ah dovete amare la scienza non possiamo amare una scienza che ci spiega di essere invece in odio con la vita dei fragili è molto semplice caro Di Freddi non si può amare una scienza che ha in odio la vita dei fragili che ci vengono a spiegare che devono essere soppressi i bambini come Alfi è troppo evidente troppo chiaro la forza che ci regala Alfi Evans in questa vicenda è l'evidenza dei fatti l'evidenza dei fatti e ai nostri perché ci sono delle risposte da dare perché stanno e vogliono uccidere Alfi con tanta pervicacia perché quel l'ingranaggio vale solo in Inghilterra 17 miliardi di dollari mettete che lo stesso ingranaggio che stridola i malati in Belgio in Olanda in Lussemburgo è lo stesso terrificante business alimentato dai Marco Cappato d'Italia in Svizzera con le associazioni Exit e Dignitas è la cultura della morte che insieme alla cultura malefica della nascita in laboratorio ha utilizzato i termini della vita e della morte come nuova costruzione di colossali business cioè diventando così l'essere umano nient'altro che un oggetto dotato di un cartellino del prezzo questo è il grande business l'enorme pozzo di petrolio del ventunesimo secolo ho provato a denunciare tutto questo dall'inizio da quando schissi voglio la mamma spiegavo in voglio la mamma che serviva una resistenza il libretto era rosso vi ricordate una nuova resistenza si chiude voglio la mamma con le parole ora è sempre resistenza perché quella bisogna organizzare contro un ingranaggio contro un ingranaggio che non è un ingranaggio che riguarda Alfie o l'Alderei o il giudice Aiden quelle sono le rotelline dell'ingranaggio noi dobbiamo guardare all'ingranaggio in sé capirlo determinarlo capirne i meccanismi perché attraverso questo riusciamo a fermarlo nella sua imposizione sul territorio italiano dove noi dovremo combattere la guerra perché altrimenti ci troviamo con questa paginata di repubblica adesso vado a leggervi il professor davac nuovo presidente del comitato di bioetica dal 28 marzo nessuno di voi ha mai sentito nominarlo scommetto nessuno di voi bene la prima intervista che dà in un mese è per far titolare a repubblica attenzione l'intervista la fa maria novella de luca che è il cantore di repubblica dei diritti lgbt quando cercate un articolo sui diritti lgbt la firma sempre maria novella de luca ora se posso chiedervi una volta ve lo chiedo fate mi piace a questa diretta e condividetela sul vostro profilo perché vi leggo l'intervista di davac e voglio che la leggano tutti e la conoscano tutti come viene intitolata l'intervista di maria novella de luca su repubblica a lorenzo davac invitate tutti i vostri amici a seguire almeno questa parte di diretta vi prego un mi piace un condividi un invita amici per fare arrivare le persone ad ascoltare l'intervista del presidente del comitato di bioetica nominato il 28 marzo scorso che nessuno di voi conosce che nessuno ha mai sentito nominare ascoltate maria novella de luca come titola intanto l'intervista troppa emotività è accanimento terapeutico giusto fidarsi dei medici questo è il presidente del comitato di bioetica in italia una volta era un cattolico c'era d'agostino sempre stato un luogo in cui la cultura cattolica era dominante e preminente adesso abbiamo un professor davac che dice che sul caso di alfi evans c'è troppa emotività volete sapere come comincia l'articolo di repubblica un caso grottesco perché non dovremmo credere ai medici inglesi quando parlano di cure diventate ormai accanimento terapeutico capito questo è l'incipit dell'articolo lo ripeto lorenzo davac presidente del comitato di bioetica nominato il 28 marzo scorso intervistato dal cantore dei diritti lgbt maria novella de luca su repubblica con un'intervista dal titolo troppa emotività e accanimento terapeutico giusto fidarsi dei medici si definisce il caso di alfi evans un caso grottesco perché non dovremmo credere ai medici inglesi quando parlano di cure diventate ormai accanimento terapeutico continua continua l'intervista tutta a difesa dei medici inglesi i pediatri di liverpool dice il professor davac affermano che oggi siamo ormai nella fase dell'accanimento terapeutico una condizione attenzione condannata dalle nostre leggi capite tutto strumentale dice il professor davac il presidente del comitato di bioetica vuole dire noi dovremmo trattare alfi in italia nella stessa maniera con cui lo stanno trattando in inghilterra pagina 17 di repubblica del 25 aprile della festa della liberazione chiara san morì parla delle dichiarazioni del vescovo di liverpool ho citato il meccanismo che ha stritolato sempre l'ingranaggio che ha stritolato padre gabriele richiamato dal parroco di londra affinché non fosse più vicino alla famiglia evans e padre gabriele ha obbedito da sacerdote della chiesa cattolica dal regionario di cristo a chi affidano la difesa della posizione pro life su repubblica accanto a questa intervista folle a lorenzo davac che definisce alfi un caso grottesco la difesa viene affidata a beppino inglaro pensate un po il movimento pro life viene fatto difendere su repubblica da beppino inglaro e devo dire beppino inglaro dice pure parole di buon senso dice il governo non può imporre ai genitori cosa fare di un figlio però vi rendete conto come funziona capite come funziona l'ingranaggio la difesa del movimento pro life la affido a beppino inglaro l'attacco al presidente del comitato di bioetica che era una volta una casa matta della cultura cattolica vi capite come stanno cercando di far arrivare in italia l'ingranaggio che sta stridolando alfi evans capite perché alfi con la sua resistenza ci sta offrendo una clamorosa opportunità di guardare negli occhi l'ingranaggio questo è ciò che dobbiamo comprendere nella sua pienezza dobbiamo comprendere il disegno complessivo a che serve l'ingranaggio al definanziamento dell'nhs national health service per 17 miliardi di sterline 17 miliardi di sterline voi potete fare quello che volete contro il muro della 17 miliardi di sterline non si passa non si passa servono mammona per costruire quelle condizioni devi costruire una cultura l'ho scritto ieri secondo cui avete visto il tifoso del liverpool che è in coma se voi leggete il liverpool eco e il daily mirror giornali britannici molto seguiti uno locale uno nazionale la moglie del signore in coma un signore che si chiama sean e ha 52 anni si chiede se non sia il caso di lasciarlo andare avete capito bene anche sean 52 anni nel momento della sua fragilità l'ultras del liverpool picchiato dagli ultras della roma fino a ridurlo con danni cerebrali ora viene utilizzato come carne da stritolare nell'ingranaggio che quello che dovete capire che non è il caso di alfi questo questo è il caso di alfi di charlie di isaia di sean di quelli che hanno 50 anni 80 anni adesso noi siamo evidentemente inteneriti dalla vicenda di un bambino di 23 mesi la grande occasione che ci dà la resistenza di questo bambino è guardare l'ingranaggio nel suo complesso che sta stritolando l'essere umano nel momento in cui entra in una dimensione di fragilità è questo il tema e il tema è che gli davac i cecchi paone i gli odi freddi vogliono fare entrare tutto questo comodamente nel sistema italiano ricordate quello che dice davac a repubblica siamo nella fase dell'accanimento terapeutico una condizione condannata dalle nostre leggi il presidente del comitato bibliotica italiano ci vuole dire attenzione in italia ci comporteremo nella stessa identica maniera allora noi adesso dobbiamo avere chiaro questo per comprendere la portata la portata della battaglia che stiamo combattendo allora quando io vi chiedo ho sempre chiesto il sostegno al popolo e la famiglia l'ho detto anche oggi votate per l'incetto a pordenone per la baldacci per tutti i nostri candidati alle prossime elezioni tutto questo non avrebbe senso non ha senso se non c'è la lettura del perché lo facciamo perché farlo è per distruggere l'ingranaggio perché per distruggere l'ingranaggio non bastano le veiglie di preghiera serve una grande mobilitazione che parta da una nazione faro che può essere solo l'italia voglio dire anche il presidente polacco si è espresso esplicitamente a favore di alfi ma se non c'è una risposta popolare giuridica politica di mobilitazione che vorrei dire di massa noi contribuiremo che i nostri 220 mila militanti certificati delle scorse elezioni politiche il popolo e la famiglia si farà ovviamente carico di questo lavoro lo faremo quotidianamente ma dobbiamo avere chiaro che ciò che stiamo sfidando è non il drago ma un esercito di draghi in questo momento serve san giorgio il resto è tutto molto bello cura le nostre ansie forse ci fa sentire partecipi con i click su facebook le veiglie le emozioni online tutto quello che in questo momento serve comprensione della dimensione fenomenica di un ingranaggio che rischia di schiacciarci perché vuole essere introdotto in italia allora cosa è possibile fare chiede delia la prima cosa da fare la controinformazione è la straordinaria bellissima testimonianza di giovanni marco tuglio ieri che dice a chiaro a cecchi paone che lui non è lì non può capire quello che sta accadendo e quando cita dalla piccola noi dovremmo avere sempre la forza di dire guarda che stai citando il falso stai dicendo il falso caro davac il caso di alfi evans non è un caso grottesco caro presidente del comitato di bioetica stai facendo ideologia vuoi introdurre introdurre quell'orrendo ingranaggio all'interno dell'ordinamento giuridico italiano e noi non te lo consentiremo caro presidente del comitato di bioetica per quanto mi riguarda indegno di ricoprire quel ruolo questo è il lavoro che dobbiamo svolgere oggi dobbiamo spiegare dobbiamo spiegare siamo all'assalto dei draghi e oggi serve san giorgio perché dentro quella dimensione 17 miliardi di dollari risparmiati solo dall' nhs quando uno è malato in belgio sapete cosa fa si rifugia in francia perché almeno lì non c'è la legge sull'eutanasia perché in belgio olanda e lussemburgo i casi alfi sono 20.000 l'anno chi ha letto o capiamo o moriamo lo sa sono 20.000 20.000 in svizzera al nostro confine stanno costruendo delle vere e proprie associazioni a delinquere e cosa vogliono fare signori attenzione attraverso il caso di marco cappato con un pubblico ministero che si alza invece di fare la pubblica accusa contro marco cappato fa la ringa difensiva e con il tribunale che questiona l'articolo 580 del codice penale che punisce con 5 dai 5 ai 12 anni di carcere l'istigazione l'aiuto a suicidio portando l'articolo 580 del codice penale all'attenzione della corte costituzionale cosa vogliono fare amici miei vogliono depotenziare o fin anche togliere l'articolo 580 del codice penale affinché il massacro dei fragili sia legittimo o comunque depenalizzato lo comprendiamo che dentro questo dentro tutto questo c'è un meccanismo che vuole portare l'ingranaggio in italia lo comprendiamo grazie alla resistenza che da 60 ore offre con il suo respiro alfi evans qual è il grado di crudeltà di quell'ingranaggio di disumanità per usare le parole del presidente dell'istituto superiore di sanità dottor ricciardi perché esistono per fortuna anche medici come dalla piccola come ricciardi come il presidente del bambin gesù mariella enocca che stanno facendo invece il lavoro opposto non siamo soli eh non siamo soli l'italia ha una cultura giuridica economica voglio dire anche di cultura sanitaria impregnata di radice cristiana che rappresenta il faro e l'alternativa al disastro al disastro rappresentato dall'invasione dei draghi dall'invasione dei draghi allora signori adesso dobbiamo costituire in tutta evidenza un presidio di comprensione di ciò che sta accadendo denunciando i davac denunciando gli odifreddi e i cecchi paune che parlano a caso addirittura citano dalla piccola senza neanche sapere cosa dalla piccola dica veramente dalla piccola difende assolutamente difende assolutamente il diritto di alfi e parliamo anche di quelle rotelline nell'ingranaggio interne alla chiesa lo dobbiamo dire ripeto leggete giovanni marco tuglio su aleteia con l'ultimo articolo che ha mandato proprio oggi questa vicenda di padre gabriele che viene richiamato dal parroco richiamato a londra affinché non stia più a liverpool all'alderay l'arcivescovo di canterbury che corre a roma che corre a santa marta che va in andienza privata dal papa le dichiarazioni le parole insomma c'è qualcosa che evidentemente non funziona dalla piccola reagisca pubblicamente dice jacopo pioli dalla cina ci sono dichiarazioni pubbliche dalla piccola la piccola non è un mistero la piccola parla regolarmente ha parlato al caso alfi evans fino a ieri viene citato qualcosa che semplicemente è falso è falso signori non dobbiamo denunciare c'è federico pieroli dice denunciamo i cappato non dobbiamo denunciarli dobbiamo fare la controinformazione quando c'è cappato in televisione molto spesso ci sono io quando c'è stato ieri io di freddi e c'è chi paura c'era giovanni marco tuglio ci stiamo evidentemente mobilitando per essere l'altra voce il popolo della famiglia ha fatto questo essere l'altra voce e noi dobbiamo renderla sempre più forte noi dobbiamo sapere quello che sta accadendo capire perché sta accadendo e colpire l'ingranaggio nei punti deboli allora spiegare quanto vale l'ingranaggio definanziare il national health service per 17 miliardi di sterline ripeto 17 miliardi di sterline è una dimensione talmente colossale che vi fa capire quando l'italia definanzi a modo suo perché l'italia definanzi a cosa fa come fa aggiunge soldi al fondo sul servizio sanitario nazionale li toglie alle regioni all'organizzazione regionale della sanità che è disastrosa perché il national health service britannico è organizzato molto meglio va detto è organizzato molto meglio e noi con la nostra disorganizzazione e ovviamente con la capacità della politica di lucrare e di essere corrotta attraverso i meccanismi della sanità a livello regionale facciamo danno nella stessa maniera quello che noi non abbiamo come cultura giuridica perché l'ingranaggio da noi non è arrivato arriva sotto forma di disservizio ma allo stesso tempo non è almeno norma lì purtroppo è diventata norma e ripeto le rotelline e l'ingranaggio sono vanno da elton john fino a al giudice hayden con i politici a sostegno con la stampa con la regina è tutto questo che noi dobbiamo fronteggiare l'ordinamento giuridico olandese l'ordinamento giuridico belga quello lussemburghese la follia del suicidio assistito in svizzera e quando leggete la marzano che scrive su repubblica abbiamo parlato nell'ultima puntata di stampa evangelo vi ringrazio molto per altro puntata di stampa evangelo ha fatto 25 mila persone quindi evidentemente siamo una fonte di controinformazione quando facciamo tutto questo noi svolgiamo il nostro ruolo allora dobbiamo spiegare spiegare perché spiegando questi meccanismi facendo leggere da vac forse riusciamo a capire qual è il pericolo che ci attanaglia facendo il lavoro che ha fatto giovanni denunciando il sopruso subito da padre gabriele ad opera del suo parroca l'opera dell'arcivescovo di canterbury noi spieghiamo quello che sta accadendo e allora qui veramente sta la lettura che oggi ho posticipato del vangelo di oggi perché noi siamo sempre in attesa della buona novella che ci è giunta tramite l'incontro con cristo e se l'incontro con cristo è salvifico anche oggi l'incontro con la buona novella è salvifico il vangelo è oggi quello di giovanni siamo in cinque versetti del capitolo 13 in quel tempo dopo che ebbe lavato i piedi agli scepoli gesù disse loro in verità in verità vi dico un servo non è più grande del suo padrone né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica non parlo di tutti voi io conosco quelli che ho scelto ma si deve adempiere la scrittura colui che mangia il pane con me ha levato contro di me il suo cancagno ve lo dico fin d'ora prima che accada perché quando sarà avvenuto crediate che io sono in verità in verità vi dico chi accoglie colui che io manderò accoglie me chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato questa è la prova del signore di oggi che ci ricorda sempre che anche tra coloro viene a pensare anche nella chiesa proprio citando le parole di giovanni marco tuglio sulla vicenda di padre gabriele anche tra coloro che mangiano il pane con cristo c'è però chi leva contro di lui il suo calcagno e allora teniamo presente questo elemento e cerchiamo di comprendere dunque tutti gli attori dell'ingranaggio per avere evidente l'ingranaggio stesso e ciò che dobbiamo colpire elementi del mondo della comunicazione della cultura dello spettacolo queste sono le rotelline magistrati politici uomini di chiesa la questione complessiva è però un segmento che serve mammona noi continuiamo a fare quello che dobbiamo cioè a servire dio cerchiamo come dice maria marroso di non farci prendere in giro intanto indico a silvia di non fare entrare nessuno ma risponde alla porta di viene che in questo momento no 17 miliardi di sterline lo dico a nicola ocello che dice 14 miliardi di euro non sono 14 miliardi euro sono 17 miliardi di sterline al cambio attuale sono circa 19 miliardi di euro questo è il definanziamento dell'nhs national health service che ha prodotto e produce lo stritolamento della persona in una dimensione di fragilità e non di una di 5 10 centinaia migliaia all'anno migliaia all'anno io vi chiedo di essere consapevoli di tutto questo di far capire dunque qual è il meccanismo in campo chi sono le rodelline e l'ingranaggio e vorrebbero importare l'ingranaggio in italia fino al presidente del comitato di bioetica ricordatevi fino al presidente del comitato di bioetica cerchiamo di avere chiaro tutto questo per evitare che l'italia diventi territorio di caccia di questi assassini e continuiamo a far a rendere l'italia quello che è possibile faro per un'alternativa utilizzando la straordinaria resistenza di alfi evans la sua grande capacità di averci regalato queste 60 ore in cui l'italia si è svegliata in cui abbiamo avuto le trasmissioni televisive le prime ieri di notte abbiamo avuto le pagine sui giornali purtroppo fanno parlare davac e la fidano la risposta del movimento pro life a beppino inglaro però abbiamo finalmente trasformato un caso che rischiava di essere solo il solito caso di nicchia dei piccoli movimenti cattolici italiani in una riflessione complessiva sulla scelta che è poi la scelta fondamentale del se servire dio il figlio dell'uomo e l'uomo oppure mammona questa è la chiave fondamentale della comprensione di un fenomeno su cui è utile e necessario avere massima consapevolezza massima consapevolezza al di là del trasporto emotivo di cuore e della risposta di preghiera che ovviamente tutti noi stiamo fornendo in queste ore e in questi giorni jacopo pioli chiede fino a che non muore non può uscire da lì non è esattamente così potrebbe uscire da lì ma i medici hanno detto che hanno bisogno di almeno cinque giorni perché c'è un clima di ostilità nei loro confronti altra giustificazione surreale la verità è che vogliono che muoia quello che dobbiamo capire è che tutte queste vicende l'ingranaggio quando si è messo in moto ha ottenuto un solo obiettivo vuole persegue un solo obiettivo la morte di alfi è l'unico obiettivo che hanno le rotelline e l'ingranaggio in sé e non lo molleranno quello che ci dà la grande resistenza di alfi è la possibilità di guardare negli occhi l'ingranaggio e di comprendere perché importarlo in italia sarebbe devastante ci rende anche possibile un appello sul piano ecclesiale affinché sia libero padre gabriele e che non vengano esercitate ulteriori influenze per allontanarlo purtroppo in questo momento è stato allontanato noi ora stiamo ricercando la verità la verità negata come dice marilena sciarrone una volta fuori non può farsi una vacanza in italia no perché c'è un ordine restrittivo del giudice che impedisce che lasci il territorio britannico giovanni mazzotta che un medico dice che medici sono questi colleghi inglesi che vogliono che muoia ormai è l'ingranaggio che è in movimento e l'ingranaggio a questo obiettivo dobbiamo averlo chiaro e spero di avervi spiegato bene oggi perché l'ingranaggio a questo tipo di obiettivo e spero di avervi spiegato bene anche chi sono gli attori che sul territorio italiano vogliono importare l'ingranaggio e comunque quant'è fondamentale per noi combattere l'introduzione dell'ingranaggio sul nostro territorio anzi sapere che la nostra italia può essere faro di un'alternativa giuridica culturale economica di gestione sanitaria dei casi storica se volete perché impregnata la nostra radice nel cristianesimo io ringrazio davvero per l'attenzione che avete voluto dare a questa diretta vi chiedo se volete se potete di farla seguire anche indifferita a più persone possibili perché la nostra frontiera di controinformazione è questa noi qui possiamo dire che quando cecchibavone cita dalla piccola cita il falso dice parole false dalla piccola è totalmente schierato con il diritto alla vita di alfi evans che quando odifreddi dice ah la scienza va amata non può chiederci di amare una scienza che è parte dell'ingranaggio che vuole stritolare l'essere umano nella sua fragilità è impossibile che quando lorenzo davac dice che questo è accanimento terapeutico e l'accontateggiamento dei genitori alfi attiene a un caso grottesco e fa il presidente del comitato di bioetica si prende da noi tutto il nostro disprezzo il professor davac presidente del comitato di bioetica in italia si prende tutto il nostro disprezzo così come si prende tutto l'onore il dottor ricciardi presidente dell'istituto sapere sanità che definisce disumani i meccanismi medici inglesi i meccanismi dell'ingranaggio e così come tutto l'onore va a mariella enoch deputata presidente del del bambino gesù così come dalla piccola direttore del bambino gesù così come a giovanni marco tuglio col lavoro che sta svolgendo di controformazione tutto l'onore a chi combatte non solo e non tanto per la vita di alfi ma per la difesa della fragilità umana perché attorno alla fragilità umana possiamo costruire la riflessione complessiva sul bene che deve sconfiggere la cappa di morte e di male che i nichilisti vogliono importare anche nel nostro paese questo è ciò che è in campo in questa complessiva e vitale battaglia che ha come fulcro la straordinaria e miracolosa capacità di resistenza di un bambino fragile di 23 mesi che si chiama alfi emans e dei suoi due coraggiosissimi miei giovani genitori tom e kate a cui va tutta la mia solidarietà il mio amore a cui vanno tutte le mie preghiere da maria di nolfi la buona giornata a tutti se volete se potete fate conoscere le cose che abbiamo detto oggi con un mi piace un condividi e un invito ai vostri amici a seguire la diretta di stampa il vangelo ci rivediamo domani sempre più o meno alla stessa ora con le informazioni che speriamo rendano ancora più evidente la forza della nostra resistenza da maria di nolfi una buona giornata a tutti con ringraziamento anche a benedetta frigerio fa bene per luigi cesare ricordarmi e tantissimi che si stanno battendo in queste ore in prima linea soprattutto agli operatori dell'informazione che hanno provato e provano a fare contro informazione come facciamo noi sulla croce poi facciamo noi con stampa evangelo come facciamo noi con la militanza nel popolo della famiglia un abbraccio da maria di nolfi a tutti voi